Dopo tanta attesa da parte del pubblico, ieri sera Delia è tornata nella casa del grande fratello per un ultimo chiarimento con il marito. Alex, alcuni giorni fa, aveva dichiarato di non voler più incontrare Delia all'interno del programma, spiegando che avrebbe chiarito una volta uscito. Ma non c'è stato bisogno di attendere fino alla sua uscita, infatti Alfonso ieri ha fatto entrare Delia. Vediamo come è andato il confronto. Delia, prima di entrare però, ha dichiarato di non volersi confrontare con Soleil, ma ha spiegato che il suo ingresso era finalizzato solo al chiarimento con suo marito, e non ad un ulteriore scontro con l'influencer. Una volta aver lasciato Alex nel salotto da solo, viene chiamato il freeze ed ecco apparire Delia nella casa e posizionarsi davanti a suo marito. Lui, in piedi, è visibilmente molto emozionato nel rivedere la sua amata. Delia comincia così. Cinque mesi fa ci siamo scambiati le promesse di matrimonio e oggi voglio chiarimenti. Gli atteggiamenti che hai avuto, fuori della casa, sono stati visti malissimo e io ho sofferto. Colto di sorpresa, Alex resta in silenzio ed ascolta le parole della moglie che, una volta per tutte, è rientrata nella casa per chiarire la loro situazione. Non appena ha potuto muoversi e prendere la parola, si avvicina alla moglie e subito cerca un contatto. Anche se Delia cerca di trattenersi, si scioglie tra le braccia del marito che le sussurra. Non c'è assolutamente niente. Il nostro amore non verrà scalfito da niente, scusami. L'amore sembra aver preso il sopravvento sulla situazione e i due sposini, stretti in un tenero abbraccio, sembrano non riuscire più a staccarsi. La scena diventa un po' imbarazzante quando torna Soleil in salone. Approfittando del momento, Alex presenta Delia a Soleil sperando che possano un giorno andare d'accordo, poiché entrambe, oramai, fanno parte della vita dell'attore. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.